Questa asciugatrice di Electrolux ha una capacità di carico di 8 kg e sfrutta la tecnologia a pompa di calore, collocandosi in classe energetica A più per quel che concerne l'asciugatura e in classe A per quel che riguarda l'umidità. Delicate Care è il sistema che assicura la massima cura dei tessuti più delicati come la lana. Il sistema Autosense rileva il livello di umidità del bucato all'interno del cestello riducendo automaticamente i consumi e interrompendo l'asciugatura quando l'umidità scende fino al livello impostato. Per chi cerca un asciugabiancheria che sia veloce e silenziosa e che sia pensata per ridurre i consumi senza rinunciare ad un'asciugatura perfetta. EcoFlow System è il nuovo sistema con filtro sigillato e ad alta efficienza che garantisce consumi minimi. In questo modo dovrete tenere pulito un solo filtro assicurandoti massime prestazioni nel corso del tempo.